Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. La manifestazione del Movimento 5 Stelle non è per la pace ma per la resa dell'Ucraina. Per me sentire queste posizioni è incredibile. Nella misura in cui noi dall'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina, della violazione dei confini e dell'inizio di questa guerra che stiamo ormai vedendo da sette mesi, che stiamo dicendo che ovviamente abbiamo sempre riconosciuto che c'è un aggredito e c'è un aggressore, che la Russia ha perpetrato dei crimini mostruosi all'interno del territorio ucraino. Abbiamo votato, questo lo voglio ricordare, l'invio delle armi perché quando era necessario armare l'Ucraina l'abbiamo fatto senza nessun tipo di ambiguità. La questione adesso è, e non lo dico io, non lo dice il Movimento 5 Stelle, l'ha detto Lucio Caracciolo l'altro giorno, siamo di fronte all'Ucraina che è diventata la seconda potenza militare convenzionale dell'Europa, quindi c'è solo la Germania. In questo momento l'Ucraina non ha un problema di armi, ha un confronto con una potenza nucleare. La Russia ha 6.000 testate. Il fatto che si possa arrivare a un'escalation importante, un'escalation nucleare, ugualmente è un rischio grandissimo che noi stiamo correndo e non lo dice ovviamente il Movimento 5 Stelle. Il fatto di poter dire che è necessario un negoziato, che è necessario non rimandare la pace, lo dice il Santo Padre, l'ha detto il Presidente della Repubblica l'altro giorno, il Presidente Mattarella. Ma come? Quindi la questione è molto semplice, bisogna arrivare a un cessate il fuoco. Come arrivare a un cessate il fuoco lo sta facendo la Turchia che è nella Nato, quindi non è che lo sta facendo. Quindi quando lo fa la Turchia va bene, quando si propone di farlo all'interno di un contesto europeo non va più bene. Quindi la questione è ovviamente arrivare a un cessate il fuoco e portare avanti un tema a negoziare coinvolgendo anche i convitati di pietra, che in questo momento sono non solo gli Stati Uniti, ma sono anche l'India e la Cina che chiaramente possono fare la loro parte. Il fatto di dire, di mobilitare anche i cittadini per poter dire che la pace è un tema universale, è un tema non più rimandabile, è un tema che deve vedere l'impegno di tutti in questo momento. Non c'è un tema legato al... Io le chiedo però due cose che non mi sono chiare, ma magari lei mi aiuta a capirle. La prima, c'è una manifestazione in Italia, una manifestazione di piazza per la pace. A chi parla? Cioè chi ci aspettiamo che la veda questa manifestazione e che le dia un peso? Questa è la prima domanda che le faccio. Mi chiedo, lo scopo è farla vedere a chi? Se ci aspettiamo che la guardi Putin e che si faccia una preoccupazione di questo tema... Intanto servirà per dare voce a chi, come tutti i nostri cittadini, sta sostenendo in questo momento le sanzioni, sta pagando per le sanzioni e che ha necessità di anche vedersi rappresentato e di vedere che quello che dovrebbe succedere, e quindi un negoziato e la pace è all'ordine del giorno, e chiaramente ha un grandissimo peso all'interno dell'interlocuzione. Ma chi organizza questa manifestazione per la pace si pone un punto di caduta? Cioè la pace è possibile? Noi immaginiamo che sia possibile e come? Noi abbiamo fatto una proposta molto semplice. Noi abbiamo fatto la proposta di una conferenza sotto legge dell'ONU con il coinvolgimento forte della Santa Sede. Questa non può essere una cosa più rimandata. Ripeto, a me la cosa che fa impressione è che noi stiamo lasciando la Turchia, che fa parte della Nato, fare in modo di prendere in mano le reddine negoziali. No, l'Europa in questo momento è totalmente non pervenuta. L'Europa è assente, deve prendere l'iniziativa. Anche qui bisogna capirsi cosa si intende per Europa, perché...